Grazie, detto questo amici, noi vi salutiamo purtroppo, il tempo a nostra disposizione è finito, vi salutiamo con questa bella country cumbia, ve la presentano i ragazzi con una bella coreografia di chitarre, eccoli qua per voi i nostri cavalieri del cielo, grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti